Dalla difesa della Camera del Lavoro di Bari nel 22 alla rivolta degli Edili nel 62 passando attraverso il ricordo dell'avvocato Ciccio Mucciaccia la Cigelle di Bari ricostruisce il percorso di affermazione della democrazia. In un'intervista esclusiva alla Cigelle di Bari Baldina di Vittorio ricorda la nascita di suo fratello Vindice nella Camera del Lavoro di Bari mentre i fascisti tentavano di occuparla. Era il 1922 e lei aveva solo due anni. È giovane, determinata ma soprattutto donna. Come la funzione pubblica anche la Filcams ha deciso di rinnovarsi con i giovani mettendo per la prima volta alla guida della categoria una donna. Bilancio positivo per Barbara Neglia a pochi mesi dalla sua elezione. Buongiorno e benvenuti alla seconda puntata del nostro settimanale di approfondimento. Memoria della resistenza identità della democrazia è il titolo della tre giorni di iniziative che la Cigelle di Bari ha organizzato per celebrare il novantesimo anniversario della resistenza antifascista. Dalla difesa della Camera del Lavoro di Bari nel 22 alla rivolta degli Edili nel 62 passando attraverso il ricordo dell'avvocato Ciccio Mucciaccia. Il servizio. La Cigelle di Bari ha voluto ricostruire il percorso di affermazione della democrazia attraverso il ricordo dell'impegno e delle battaglie dei lavoratori e del popolo tutto che ha pagato contributi di sangue il prezzo delle lotte per l'affermazione dei diritti civili, sociali e di cittadinanza. La memoria della resistenza l'identità della democrazia è il titolo che la Camera del Lavoro di Bari ha dato alla tre giorni di iniziative organizzate con la collaborazione di Comune, Ipsaic, Fondazione di Vittorio e Casa di Vittorio, Ampi, Ampia e Cigelle di Parma per celebrare il novantesimo anniversario della resistenza antifascista. Il cammino di ripristino della memoria recuperando ciò che i fascisti volero cancellare, ovvero la storia del movimento sindacale dei lavoratori, è partito proprio da Barivecchia, roccaforte della resistenza, precisamente dalla scuola di Omede Fresa, costruita sulle macerie di quella che un tempo è stata la sede della Camera del Lavoro, dove lo scorso primo maggio è stata scoperta la pietra d'inciampo con i nomi degli eroi che fermarono i fascisti. Un lungo corteo ha attraversato i vicoli della Roccaforte Rossa, fermandosi dinanzi ad altre pietre d'inciampo che lungo il percorso costituiscono i tasselli della memoria storica da consegnare alle future generazioni, affinché possano assumere le giuste motivazioni per dare valore alla democrazia, alla libertà, al senso di appartenenza. Ultima tappa del viaggio simbolico attraverso i luoghi della memoria è stata quella del Fortino Sant'Antonio, dove il 25 luglio la Cigelle di Bari e quella di Parma si sono unite in un gemellaggio per suggellare il ruolo fondamentale del movimento sindacale in quegli avvenimenti. Se almeno mezza Italia avesse potuto resistere e lottare e vincere come Bari, come Parma, Roma e altre città, ricorda Giuseppe Di Vittorio, padre del sindacato, il fascismo non sarebbe mai arrivato al potere in Italia. Il fil rouge che unisce i fatti di Parma a quelli di Bari è la partecipazione. A Bari, infatti, cittadini, lavoratori, abitanti della città vecchia guidata da Giuseppe Di Vittorio, si barricarono nella sede del sindacato e la difesero con le armi, reagendo con coraggio e con forza a quel vile attacco fascista. 40 anni dopo, nel 1962, l'eco di quei giorni fu raccolta dagli operai edili che protestarono per chiedere salari adeguati a un contratto collettivo di lavoro. Immagine e testimonianze di chi è stato protagonista di cortei e tafferugli, che poi si sono inaspriti al punto da diventare veri e propri scontri tra i manifestanti e la polizia, su Corso Vittorio Emanuele dinanzi alla sede dell'Associazione degli Industriali, sono state proiettate durante il convegno dal titolo Bari 1962, la rivolta degli edili, svoltosi al Fortino Sant'Antonio lo scorso 26 luglio, durante la seconda giornata di appuntamenti dedicata alla memoria della Resistenza. Una sezione della mostra fotografica e documentaria dell'archivio storico della Cigelle di Bari è dedicata proprio alla rivolta degli edili, con preziose testimonianze di protagonisti e testimoni di quegli avvenimenti, fra cui Ciccio Mucciaccia, alla guida del Collegio di Difesa dei Manifestanti, arrestati durante lo sciopero. Ricordato durante il terzo giorno di iniziative in un convegno al Comune di Bari, Ciccio Mucciaccia ha richiamato l'attenzione nazionale difendendo il principio di resistenza passiva. Nominato responsabile del Comitato di Solidarietà Democratica, ha avuto il merito di riorganizzare le attività che già il sindacato e i partiti di sinistra facevano, dando una nuova linfa e una prospettiva che hanno colmato i vuoti territoriali, costruendo relazioni e politiche di alleanze di più ampio respiro. Una vita per certi aspetti unica. Comincia così il racconto della vita di suo padre, aprendoci le porte della sua casa estiva, massa marittima baldina di Vittorio. In un'intervista esclusiva alla figlia di Giuseppe di Vittorio, l'uomo del sud che creò il sindacato e che cambiò la storia del mezzogiorno e dell'Italia, ha ricordato la nascita di suo fratello Vindice nella Camera del Lavoro di Bari, mentre era assediata dalle squadracce fasciste nel 1922 e lei aveva solo due anni. Vorrei evocare un episodio che è sempre stato considerato drammatico per la nostra famiglia e che dà un'idea, lo dico soprattutto per i giovani, di quanto fosse dura, difficile e fatta di povertà, di sacrifici, anche di vita individuale, molto difficile. Noi eravamo allora, la nostra piccola famiglia, in questi drammatici momenti dell'assedio fascista alla Camera del Lavoro di Bari Vecchia, la nostra famiglia si trovava lì da alcuni giorni ed è rimasta per un certo periodo lì, ed è lì che mia madre, dato che aspettava mio fratello Vindice, mio fratello, in una situazione assolutamente drammatica, dove si udivano soltanto gli spari, dove lei sapeva che era presente Peppino e che quindi temeva per la sua vita perché lì sparavano, lanciavano bombe. C'era un pericolo, una vera battaglia è stata quella dell'assedio della Camera del Lavoro di Bari, come tutti sappiamo. e quindi in quella situazione mia madre diede la luce a mio fratello Vindice e questa fu una cosa che lasciò purtroppo nella sua salute delle conseguenze perché fu una cosa traumatica naturalmente. e così Peppino venne un momento nella stanza dove noi eravamo e dove abitavamo in quel periodo perché i mezzi erano questi, come dire, le condizioni di vita erano questi, non solo di lavoro, di pericolo fascista, eccetera, ma materialmente era una vita molto dura, quello che facevano tutti del resto, i lavoratori, i compagni, eccetera. Ma in quella situazione fu particolarmente drammatica perché mia madre non aveva nemmeno, diciamo, un aiuto. Mio padre accorse alla notizia che era nato già mio fratello e allora gli diede il nome di Vindice. Vindice perché lo chiameremo Vindice perché significa vendetta vittoriosa sul fascismo. Questo fu la sua, come a me, il nome di Balda perché diceva in questa situazione di continue lotte e di continui combattimenti perché di questo si trattava anche, se è una figlia, dato che è una bambina, deve essere coraggiosa. Questa era una storia che mi hanno raccontato varie volte. E giovane, determinata, ma soprattutto donna. Come la funzione pubblica, anche la Filcams ha scelto di rinnovarsi con i giovani mettendo per la prima volta alla guida della categoria una donna. Bilancio positivo per Barbara Neglia a pochi mesi dalla sua elezione. L'intervista. Adesso con la volontà politica da parte del Filcams nazionale, cioè quella di dare alla donna il giusto ruolo anche in termini dirigenziali, anche a Bari e quindi nella provincia di Bari siamo riusciti a portare avanti questa nostra campagna. Le pari opportunità, la conciliazione tempo lavoro, queste sono anche al nostro interno gli obiettivi per una nuova Filcams, una Filcams Bari formata soprattutto da giovani. Il nostro obiettivo è proprio quello, è quello di insediarci sul territorio, di riacquisire la fiducia che attualmente i lavoratori e le lavoratrici hanno perso nel tempo, anche un po' vedi la crisi che non aiuta sicuramente alle relazioni sindacali con le aziende, vedi anche un po' le vertenze che abbiamo in piedi, il riconoscimento dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici che spesso non trovano spunto anche proprio nelle trattative sindacali, quindi quello per noi è l'obiettivo. L'obiettivo è quello di portare avanti e di continuare a lottare accanto alle lavoratrici e ai lavoratori ma soprattutto riuscendo, e questo è il mio obiettivo da segretaria generale, di riuscire a coinvolgere anche le donne che nel mercato del lavoro hanno, soprattutto nel nostro settore, sono praticamente nella predominanza perché nel commercio la maggior parte delle lavoratrici sono donne, come nei servizi, quindi riuscire a dare voce a queste donne, a queste persone, a queste lavoratrici, dare voce e dare loro la possibilità di riprendersi la dignità che oggi non hanno più. È tutto, grazie per averci seguito, appuntamento alla prossima settimana, arrivederci!